Allenamento a porta aperte, questo pomeriggio per il Benevento, reduce dall'importantissima vittoria contro il Monterosi. Tre punti vitali per le ambizioni di vertice della strega, ora attesa dalla delby campano contro la copolista Juve Stabia. Per la gara del menti, Andrioletti recupera anche Pinato, dopo Berra già in banchina lunedì sera. Molto probabilmente, solo uno dei due, il difensore, farà parte dell'undici titolare contro le Vespe, il mediano ex Venezia. Provato nelle esercitazioni di oggi nel trio di centrocampo insieme a Carici e Ragazzi, partirà quasi certamente dalla panchina. Nonostante Andrioletti abbia provato a miscare le carte, non fornendo molte indicazioni su quello che potrà essere l'undici anti Juve Stabia, dall'Imbriani arrivano conferme sulla volontà del tecnico di continuare con il 3-5-2, una soluzione magari per sfruttare al meglio la batteria di centrocampisti a disposizione e per aumentare con due punte la pericolosità in avanti. Grazie a tutti.